Grave incidente poco dopo le 8 di sabato 5 marzo a Gavirate, in via Bixio per causa ancora da accertare un 36enne rimasto ferito. In base ai primi riscontri si tratta di un addetto all'igiene urbana. L'uomo era sceso dal mezzo per raccogliere un cestino dei rifiuti a bordo strada quando il veicolo si è messo in movimento e lo ha schiacciato contro il muro di cinta di un'abitazione. Subito alcuni testimoni hanno lanciato la richiesta di aiuto. Sul posto sono accorsi un elicottero del 118, un'ambulanza della Croce Rossa, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della stazione di Gavirate e alla polizia locale. L'uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso, ossia quello che indica le situazioni più gravi, al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese.